Simone Puleo, manca ancora un piccolo sforzo per raggiungere questi benedetti play-off? Sì, manca ancora uno sforzo, nonostante abbia fatto un ottimo giorno di ritorno siamo ancora qui che dobbiamo entrare definitivamente dentro questi play-off dobbiamo fare il risultato a Trapani e andremo come abbiamo sempre fatto per fare il risultato Secondo te che tipo di partita sarà? Una partita particolare, comunque sia aperta a tutti i risultati loro magari con la vittoria è vero che magari non possono prendere il minazzo ma è anche vero che magari possono buttarci fuori a noi dei play-off ed è sempre meglio buttare fuori un Avellino dai play-off da parte nostra noi vogliamo entrarci a tutti i costi per poi giocarci tutte le carte quindi sono una partita, una tripla È stata una rincorsa estenuante per l'Avellino che ha fatto più punti nel giorno di ritorno da quando ci sono i campionati a tre punti praticamente Sì, sì, abbiamo fatto un giorno di ritorno stupendo peccato però non essere riusciti a compiere l'impresa però va dato arte a questa squadra di aver fatto il possibile anzi più l'impossibile, ha fatto un ottimo giro di ritorno peccato non essere riusciti ad arrivare prima però giocheremo queste carte per entrare in C nel play-off L'impresa non ha resa possibile non solo per colpa dell'Avellino? No, non solo per colpa dell'Avellino comunque era un'annata particolare diciamo che con l'inizio in ritardo problemi di infortunio un giro è andato male il ritorno si è riuscito a farlo bene magari nella partita decisiva sicuramente qualche episodio non è stato favorevole che poteva cambiare una stagione tante piccole cose che non hanno aiutato però, ripeto, a questa squadra in questo momento non si può dire nulla Come l'episodio, come il rigore non dato al Romano contro il Milazzo e quel gol di Orioles che era in fuorigioco Sì, il gol di Orioles in fuorigioco il rigore sul Romano e il gol di Maiella regolare tre episodi che alla lunga possono pesare hanno pesato sulla fine del campionato peccato perché comunque noi ci credevamo molto È stato un dispiacere non regalare una soddisfazione al meraviglioso pubblico che è venuto contro il Milazzo? Sì, è stato quello Il dispiacere più grosso è stato che comunque sia per la prima volta avevamo riempito un po' il partegno quest'anno e non siamo riusciti a dare quella soddisfazione che loro avevano dato a noi in inizio partita però speriamo di rincontrarci di riabbracciarci tutti quanti insieme nei play-off Ecco, dobbiamo scongiurare il pericolo sparigio? Dobbiamo scongiurare il pericolo sparigio l'obiettivo della Vellino è fare il risultato noi ci proveremo abbiamo le carte in regola per poter fare il risultato ovunque e dovunque e quindi siamo fiduciosi nel proseguio Grazie